Giulio Sabi, due tie-break consecutivi giocati, due tie-break persi, però siete nel pezzo in questo play-off quinto posto, dobbiamo dirlo? Sicuramente, sicuramente stiamo battagliando, nonostante questa sera un primo set che ci ha riportato indietro nel tempo, però siamo stati bravi comunque a reagire, a rimanere concentrati in campo e sappiamo che le partite sono tutte così, perché tutte le squadre giocano, nessuno vuole perdere in campo. Senti, molti allenatori in questo play-off quinto posto parlano di un cisterna letteralmente diverso dal quale guardarsi. Sicuramente per noi è stata una stagione deludente, quindi questi play-off servono a noi per salvarci un po' la faccia, anche per la società che lo merita e, ripeto, dobbiamo giocare sempre con il coltello tre denti. Un po' un rammarico proprio per questo, proprio il fatto che potevate fare molto di più nella prima fase. Sicuramente, sicuramente è stata una stagione travagliata, perché non è che ci stiamo a nascondere dietro un dito, quindi non ci pensiamo più. Pensiamo al presente e al futuro, e adesso il futuro è la partita di giovedì a Ravenna, quindi pensiamo partita dopo partita, al passato non ci pensiamo più perché se no andiamo avanti. Grazie.